Per oltre un anno ha minacciato la sua ex e i suoi familiari senza risparmiare amici e vicini di casa della donna. Un vero e proprio incubo di cui è stata vittima per lungo tempo una 47enne della provincia di Avellino, al quale hanno messo fine i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, che hanno notificato ad un uomo, anche egli irpino, un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e messa su richiesta della locale procura della Repubblica dall'ufficio GIP del Tribunale di Avellino. I giudici hanno inoltre prescritto, a carico dell'indagato, l'applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento si è reso necessario a causa dei numerosi episodi di minacce e aggressioni verbali che il 47enne ha posto in essere ai danni della sua ex. Minacce gravissime non solo nei confronti della donna, che in più occasioni sono state accompagnate da gesti attraverso i quali l'uomo lasciava intendere di essere in possesso di un'arma, in modo da incutere ancora più paura. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri attraverso una complessa indagine durante la quale sono stati attentamente ricercati riscontri rispetto alle dichiarazioni acquisite, le minacce dell'uomo sarebbero state accompagnate da frequenti comportamenti finalizzati ad infastidire fino a tormentare la vittima. L'uomo adesso non potrà più comunicare con la ex e dovrà mantenersi a distanza da lei e dai luoghi frequentati dalla donna. Eventuali violazioni saranno rilevate dal dispositivo elettronico.